Per ripartire alla grande c'è bisogno del veicolo giusto, ne abbiamo davvero tanti che possono fare al caso vostro Oggi però siamo qui con Fiat Doblò Combi, in multispazio Fiat Professional con 5 posti, perfetto per la vostra attività 90 cavalli diesel, è davvero in ottime condizioni, questa è la sua versione con il tetto alto, 5 posti A bordo possiamo notare che l'infotainment è perfetto per un veicolo commerciale Abbiamo la radio con bluetooth integrato, possiamo connettare il telefono, possiamo impostare il sistema secondo le nostre preferenze Poco più sotto sempre sulla plancia troviamo poi il climatizzatore, una presa aux e una presa usb Portellone posteriore si apre a finestra, come vedete l'ex proprietario ci ha lasciato anche un carico di pneumatici di ricambio Il bagagliaio è davvero lungo, alto e con una soglia di carico davvero bassa Se vuoi portarti a casa quindi un buon veicolo commerciale con la garanzia, la certificazione Ratti Come tutti i nostri veicoli anche questo ha passato i 100 punti di controllo effettuati dai nostri automotive expert su tutte le vetture L'auto è già stata igienizzata all'arrivo ma sarà igienizzata e sanificata anche prima di esservi consegnata Per garantirvi il massimo dell'igiene e della sicurezza Correte subito su RattiAuto.com, il link è in descrizione Andate a guardare questo e tutti i nostri veicoli commerciali disponibili Ne abbiamo davvero di tutti i tipi per tutte le esigenze Alla prossima RattiLover, ciao!